siamo qui con santiago danani partita persa 3 1 peccato peccato perché anche quest'oggi contro la leo schuso padova è lì poi c'è qualche frangente nel set in cui spegne un po la luce e modena scappa via cosa pensi possa essere il passo che deve fare ancora padova per giocarsela se mi dispiace anche perché sicuramente abbiamo alzato il livello rispetto alle ultime due partite però come una squadra come modena sicuramente quello che hai detto tu non so avere uno due tre minuti di disconcentrazione capito se se paga capito quindi secondo me l'ultimo senno era per finire 25 18 però poi lo che hai detto tu ha fatto finire se così quali pensi possono essere i fondamentali in cui bisogna lavorare un po di più per riuscire a portare a casa qualche punto nelle prossime giornate lavorare più sicuramente no perché lo stiamo facendo tanto tutti i giorni e quindi sono 100 per cento sicuro che quello non è però non so forse avere una mentalità un po più vincente un po più competitiva nella partita sicuramente quello può fare il cambio il cambio per noi in questa temporale grazie mille a santiago in bocca al lupo per le prossime giornate